da luciano l'agenzia casa oggi questa mattina con simona siamo a colle corvino in viale dei pini una zona meravigliosa residenziale sono tutte mille stupende una pace meravigliosa andiamo a vedere questo fabbricato su tre livelli due livelli dei 140 metri quadri netti più sopra una manzarda di circa 70 metri e questo enorme giardino e anche il porticato dietro è una casa bellissima piena di tranquillità dietro abbiamo anche un garage quindi naturalmente se siete interessati a questa tipologia di casa scrivete info chiamateci mandate una mail e vi mandiamo il video intero della casa per adesso vi ringrazio naturalmente vi do appuntamento al prossimo video